ma c'era un link che riguardava un martello un coltello ma quindi scusa metti un attimo il marmuto e non posso ma non hanno detto che no no io non ti ho detto che no ma non vocale non so se la sentite è strano ma non ho detto che no vabbè vabbè uno streamer con un suo canale questa cosa è presa da una live immagino io volevo fare un discorso serio io non l'ho visto quindi non so cos'è in teoria non se lo vede perché per questa cosa è stato bannato ma non vuol dire nulla ma allora Davide vediamolo io non l'ho visto sto video io non so che dice e che fa vediamolo ma dopo vorrei fare un discorso serio ho parlato pure sul gruppo facebook Don Vito minaccia ai suoi spettatori di spaccare la testa con un martello roba da Marti ma avete cagato Lucaz mi avete cagato il cazzo questo lo vedete sul martello vi prendo a uno a uno vi vengo a trovare a casa e ve lo spacco in testa ancora lo avete capito che con me non si fotte o vi comportate bene o vi spacco la capa a voi quella troia di vostra madre che vi ha messo al mondo non siete persone da esistere oh beh diciamo che ha dato dei cenni di pazzia no no facciamo una premessa dai facciamo una premessa facci ho pensato un attimo anche in seguito alla clip visionata l'altra volta una cosa interessante ok se io sono mai educato se io sono mai educato per come motivo non vado agli altri canali altrui a rompere i cazzo non c'è altro il mai educato sei tu è chi ti ha messo al mondo che devo pensare ad altro Vito basta ti sta muovendo tu sta tremando la camera e me ne sbatta il cazzo che non vieni più a seguirmi sul mio canale anzi sono felice che se dei coglioni non ci sono come a voi è meglio ma non è possibile che io mi devo subire tutto e voi coglioni dovete stare a rompere il cazzo siccome vi ho bannato sul mio canale perché siete delle merde venite nel canale altrui a rompere il cazzo pensate di fare facci chiedere pure il canale vogliamo parlare di Mimmo che chiedono Mimmo che contenuti porti in questi giorni se non mi volete più in nessun'altra radio a meno non venite a rompere i coglioni qua non mi volete in live su Twitch bene non faccio più live su Twitch ma quando morirete tutti voi perché io continuo a farevi le live è una frase una e sole soltanto vi dico vincere e vincere io bandonati bastardi comunisti la vina sono un po' preoccupato non sto scherzando non c'è ironia quello che dico però sai nel senso in che modo potremmo aiutarlo perché nel periodo in cui magari veniva anche nelle live stava più tranquillo sì per carità era sempre per maluso si incazzava ma nei limiti poi l'abbiamo lasciato stare perché ci abbiamo provato in mille modi vi ricorderete nelle live comunque ha continuato e in questo periodo sta proprio fuori di sé io poi non so quanto io lo faccio apposta perché lo vedo lo vedo comunque male sì cioè che sta proprio male sta cosa quindi a me hanno dato un consiglio sul gruppo perché ho chiesto ma secondo voi potrebbe aiutarlo farlo venire qua con noi nelle live tranquillo no perché in quel periodo mi sembrava più felice più rilassato perlomeno mi hanno detto alcuni sì altri no dovrebbe essere seguito quindi qualcuno mi ha pure detto vabbè ci può stare uno aspetta a noi prendere una decisione del genere no una decisione ma da che pulpito noi gli consigliamo uno psicologo di una cosa con Don Vito noi abbiamo una responsabilità appunto io l'ho detto pure a Gianluca dopo la telefonata ci ha fatto magnà comunque per un po' di tempo cioè noi indubbiamente abbiamo sfruttato l'immagine di Don Vito per farci dei contenuti lui è venuto da noi volenterosamente è stato uno spide come tanti mica sto dicendo che l'abbiamo fatto contro la sua volontà ma no sfruttato nel senso c'è stata una collaborazione è stato avvenuto un sacco di volte e ci abbiamo mangiato noi lui zero ok vabbè diciamo per sua gestione pessima questa preoccupazione che deriva che hai tu anche io ce l'ho ma perché mi sento in qualche modo di dovergli qualcosa io non quello tranquilli cambia il mio discorso così per poi dire le tue cose a me francamente non sta neanche bene nella verità qual'eva lui pretendeva di essere invitato qui al Cerbero perché avevamo fatto vedere il nome di quel canale che ha ricaricato la sua clip e io per trollarlo io ho detto ti vuoi autoinvitato io non ti invito chiamo quello che ha caricato la clip troll palese pure la chat sua era invitato quello che ha fatto la clip e lui si è incazzato per questo consiglio psicologo perché ha tiltato in maniera secondo me troppo 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 pesante rischiando il ban anche in quel momento tu te lo ricordi quello che ha detto quelle cose erano tutte quante da ban 5 cose da ban l'abbiamo sentito in uno stato alterato come mai l'avevamo sentito per quello in questo caso specifico noi in quanto Cerbero Podcast possiamo anche fare qualcosa noi piuttosto che mandarlo da qualche parte lui sbrocca in maniera estrema e non ti aspetti io ho conosciuto Don Vito nella live in cui è stato presente qui per la prima volta e lui era venuto con quel tipo di personaggio cioè il mio hater quindi sono stato io al suo gioco in quel momento e poi da lì abbiamo cominciato così ad invitarlo inizialmente non c'era nessun problema mi ricordo anche un periodo in cui lui stava bene diceva cominciato ad avere uno stipendiuccio da Twitch ci ringraziò pure ti abbiamo visto in chat ora stiamo aprendo Discord però veramente 5 minuti non sono riuscito a dire un concetto scusa vabbè dai basta è inutile sto di una cosa seria mentre rompete 40 volte basta live in cui Simone l'ho preso per il culo in una maniera assurda infatti l'abbiamo preso tutti per il culo gli abbiamo tutti tu gli hai detto che praticamente vale in cazzo essenzialmente l'hai annullato come persona sicuramente io con Don Vito ho passato le ore al telefono all'una di notte quando stava male post-Boscar cioè io ho veramente un rapporto non è che lo sento spesso ma penso sia l'unico dei tre del cerbero con il quale scambia qualche parola e quindi voglio quello che mi merito ciao io non cioè non ho mai alcuni di uno per al massimo ho detto che non sa parlare ma questo penso sia sia fattuale però quello che volevo dire è che comunque mi dispiace io sbiaccico ma di brutto come? scusa sbiaccico di brutto sbiaccico di brutto è una cosa pacifica e io balbetto appunto è una cosa oggettiva ma comunque ti chiedo scusa a Flam per quella cosa che ci siamo detti perché stavo trittato non ti devi preoccupare io non voglio le tue scuse io voglio vederti tranquillo cioè vederti comunque così è pericoloso pure per il tuo lavoro no Vito ricostruiamo un po' brevemente la proprio tutta la nostra storia ok del Cerbero ovviamente non quando siamo conosciuti quello sti cazzi tu sei venuto inizialmente al Cerbero ma per trollare Marra sai ne stai tutti oh Marra di tuamma ma è avuto un gioco ok e mi ricordo dei periodi belli in cui mi divertivo pure con Vito scherzavamo veniva spesso ospite siamo usciti tutti ha vinto ai Bosch vorrei ricordare che ha vinto come miglior scoperta era amato anche poi il milionario pure ha fatto un sacco ridere poi c'è stato un periodo in cui ci ha cominciato ad attaccare un po' così poi vabbè era un po' ironico che stavo prendendo pure anche lì avevamo chiarito di nuovo poi è successo nuovamente a un certo punto mi ricordo che diventasti super molesto pure su Instagram che praticamente mi taggavi ogni giorno dovetti bloccarti perché mi taggavi ogni giorno dicendo tipo però sblocca ti sblocco però sbloccalo no ma io ti sblocco però veramente ogni giorno c'avevo i tag tuoi nelle storie dicevi sto coglione ne marra che non capisce il cazzo dei giochi venite a vedere la mia live cioè era tutti i giorni così io non mi sono l'obiettivo era quello di fare una partita a qualsiasi gioco con te però del resto cioè bastava chiedermelo ok ho sbloccato comunque però al di là di questo io non mi sono arrabbiato cioè io lo sai che in realtà ti voglio abbastanza bene anche se non ti conosco così tanto però cioè io ti voglio bene sinceramente queste cose che ho visto ultimamente mi hanno un po' preoccupato poi ho visto sta clip ieri mi sono un po' preso male quindi cioè l'idea anche che ho avuto è non so magari se tu vuoi tornare qua con noi ti può dare una mano oppure se magari uno psicologo può darti una mano che non è un consiglio brutto cioè no io ci devo andare da psicologo in 6 giorni ah ottimo ok devo cercare di vedere quello della mutua che va gratis perché sta uno nella mia città un'associazione però siccome non c'erano in fondo l'hanno portato a un'altra città vicino la mia quindi ci andrò te lo pago io anche se ne trovi in alto te lo pago io non c'è problema ho messo la bandiera LGBT dietro va bene che la gente stava lamentata del Costa Rica che per me è bellissimo però vabbè va bene la bandiera ma sì nel senso tanto siamo ne politicamente corretti bravo da un paio di settimane mi mi ero super mega tiltato più degli altre volte man mano me ne sono andato un po' di testa per via dello stress è perché le mascotte animazioni spettacoli quelle cose non le faccio più e a me mi mancano però capisci che cioè questo stress questo stress quando esce fuori in maniera così violenta è un problema cioè sia l'intervista quella che ti hanno fatto sia sta cosa del martello cioè mo non lo vediamo però è una cosa veramente io sono curioso lo voglio vedere poi guarda veditelo in privato capisci che mi preoccupo perché poi non capisco dove inizia lo scherzo e dove finisce un Paolo Cannone che prende il martello farebbe ride lui comunque si è alzato ha preso il martello quindi è un po' una gag però in certi momenti visto che vai pure totalmente fuori dalle linee dei twitch o non te ne frega un cazzo del ban rischi oppure sei tiltato sul serio quando esageri insulti le madri avori le morti ho iniziato a essere violentissimo da tre settimane circa prima era un lieve mandava a fare ci sono episodi grevi anche di sei mesi fa comunque si ma non come quelli di adesso no ok io scusate ti interrompo no a me sembra veramente di rivedere la stessa situazione no 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 aspetta aspetta di una live che facemmo identica io ti voglio sincero Vito perché non voglio essere preso in giro per l'ennesima volta veramente fammi capire lo stai facendo volutamente e questo ci può stare è una strategia di tryharding noi è preoccupante siamo detto all'inizio di questa live che siamo preoccupati per te e vorremmo fare qualcosa di attivo ok perché comunque almeno io mi sento un po' in debito con te per tutto il content che ci hai dato ok così spontaneamente quindi cosa possiamo fare nel concreto noi per aiutarti a stare meglio che so amici come prima saluti ciao come stai nel senso noi ci sentiamo ogni tanto no sì ma dico anche con gli altri con gli altri nel senso oppure capita spesso che avete fatto vedere gente che mi ha fatto bannare sai cosa mi ha dato parecchio fastidio vabbè quando l'abbiamo visto a farla di questa cosa non lo sapevamo poi che vuol dire che ti ha fatto bannare sei stato bannato per le cose che hai detto immagino quello è entrato ha detto no 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 quello proprio quello caricaricato sì che ne potevamo sapere noi non lo sapevamo il video dove sbrocca in radio chat all'intervista stiamo parlando di quello lì una curiosità se proprio volete fare una cosa da amici se vi dico il profilo di ticci di questo qua io faccio la segnalazione però Twitch non l'ha bannato io spero non si poteva mettere a segnalare in massa non si può fare sta cosa Vito andiamo a piana birra Vito questo fanno gli amici non è che fanno bannare le persone capito ma pure dal punto di vista lavorativo cioè su Twitch io sono disponibilissimo pure per il fatto dello psicologo se non riesci ad andare da quello che sta lontano te ne trovi uno dove stai tu io te lo posso pagare te lo paghiamo noi quello che vuoi vabbè non devo stai più la radice del tuo malessere tengo pure questo qua ogni tanto questo mi aiuta sapete che cos'è? un sacco un gatto è il punch ball no è un punch ball un punch ball un punch ball comunque comunque la cosa del punch ball in realtà è molto utile cioè chi ha problemi di rabbia repressa è proprio consigliato iniziare a fare box sport del genere perché io vorrei fare pure palestra ma nella radio perché ti sei arrabbiato durante la radio perché ti sei arrabbiato allora vi spiego io come certa gente dice non è vero io sono rimasto in buoni rapporti con Roberto il totale della radio che ora non ci sta e se vi dico una cosa sono in buoni rapporti non ti sentiva non abbiamo sentito nulla no per dire no per dire che sono in buoni rapporti io ho le chiavi della radio perché lui non ci sta no 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 l'ha rapinato a dove le prese quelle chiavi Vito vederti sbroccare comunque dentro una radio che cazzo sta a fare ti hai fatto un po' preoccupare di buono zio capito sembra tuo figlio che ti staccava cecio bello non ci fa preoccupare così devi stare un po' più fai così con le gambe no aspetta no non esageriamo faccia 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 quello che vuole fare Don Vito si dondoli un folletto sicuramente ansia alla Twin Peaks ragazzi hai visto questo mi rende felice stare qua io avevo il sospetto e lui stessa sbrocca uno in chat chi t'ha visto e non te conosce ha pensato questo è un po' fuori di testa capito io boh io su quella cosa mi vergono di averlo fatto meno male sembra veramente dottor Jagger in Mr. Hyde cioè come diceva pure Simone che possiamo fare cioè invitarti guarda te potremo da qualche link giriamo quella video invitarti 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 ogni tanto a me fa piacere penso faccia piacere a tutti questa cosa ti potrebbe aiutare cioè ti fa non lo so ti può far sentire meglio all'interno di questo contesto Twitch ti senti pure un po' isolato magari adesso però io non vorrei che poi tra una settimana non vorrei che tra una settimana o due settimane ricominciamo con la solita solfa capito ma sì pure perché se è senso stai in un periodo dove stai a dicare un sacco di cose bannabili io sono pure un po' preoccupato perché se io te trollo durante la nostra live come ho fatto l'altra volta nella tua e mi rispondi nella stessa maniera e a live la devo buttare devo staccare tutto c'è una domanda interessante ti fa piacere stare al Cerbero o stare in nostra compagnia mi piace stare più con tutto l'universe del Cerbero quindi anche con la vostra compagnia il Cerbero in sé è divertente però mi diverto più a stare con Tutubi con Davide con Macchitano anche se è comunista però tutte le volte non puoi venire quando ti invitavo a fare il fatto ma perché sei comunista Marco sai qual è il fatto non sono arrabbiato non mi piace neanche che comunque si crea un clima di questo tipo dove scherziamo eccetera poi magari dopo ah però avete esagerato cioè o scherziamo e siamo amici e possiamo scherzare con te come scherziamo con il Nero Mante come scherziamo con Marco come scherziamo col Conoscitore eccetera oppure no però ovviamente a quel punto è il rapporto così più freddo e anche insulso però chiaramente non può essere che ti dobbiamo far venire al Cerbero come ospite come dose per calmarti no appunto una sponsorizzazione per far vedere che siamo buoni a me francamente non me ne frega un cazzo oppure che lui sa che se sbrocca eventualmente verrà invitato pure questo non va bene perché a me non me frega un cazzo cioè nel senso che io ti voglio bene però io qua non è che devo io qua in Sobba al Baradurzo a me non me ne frega un cazzo se te metti a rischio il mio lavoro tu qua non vieni più ad esempio nel periodo in cui poi abbiamo deciso di non di non invitarti più eppure Bosca tra l'altro hai fatto una scenata delle tue anche lì pretendendo non si sa cosa però vabbè lasciamo perdere io proprio perché allo stesso tempo ci hai regalato un momento improvvisato di show capito di content però in quel caso il gioco ne alzo la candela comunque quello che voglio dire è che noi per un periodo abbiamo tentato questo approccio cioè di invitarti ogni tanto quando faceva piacere a noi quando faceva piacere a te però le cose sono peggiorate quindi abbiamo detto ok forse l'eccessiva visibilità non la sai gestire e quindi ti abbiamo lasciato tranquillo però è andato ancora peggio quindi anche questo fatto di non includerti più ti ha lasciato totalmente a brio sciolta hai fatto molto peggio adesso io non è che posso farti il tutore perché non mi compete perché tu sei bad a te stesso sei grande e vaccinato però perché ti devo vedere rovinarti con le tue mani perché quando potresti secondo me divertirti come ti diverti qua con noi però oppure che so oppure parlare di di come purtroppo questo covid mi ha rovinato anche economicamente perché purtroppo con il suo covid non ho lavorato se proprio devo dirla tutta c'è ragione pure il fatto che hai avuto il covid è un altro tema importante eh sì come va tra l'altro la convalescenza siete divertenti siete divertenti come sedersi su un porco spino è la prima volta che reagisce così bene guardate che è un gran passo era un piccolo test ma il vaccino lo fai lo fai il vaccino dove lo farlo ieri porca puttana sai quando me l'hanno rinviato eh il 29 che ad agosto devo fare un evento ci devo stare un evento nerd o attento che alcuni vaccini non li puoi fare se prima c'hai avuto il covid eh non ho mai avuto il covid ma secondo te hai detto prima che il covid ti ha rovinato la vita stai andando in casa potresti pure aver l'avuto non lo sai eh guarda può essere che ci hai avuto perché per rovinare la vita mi sa vabbè comunque ma ti sa come è migliorato Don Vito Don Vito stoico è diventato grande non sbrocco cavolo io resterò perché sono più forte di tutti bravo tu sei più forte della tua rabbia Vito quando farò la seconda dose io vorrei venire volentieri da voi ma vieni ma a noi fa piacere ospiterà proprio e parliamo e parliamo qualcosa di serio lasciamo stare il cazzeggio sai Don Vito il personaggio trash il comedy parliamo anche qualcosa di serio nel senso di tante anche di sport di sport possiamo anche parlare di Maurizio Merluzzo se vuoi volentieri del martello no però non in diretta veramente grazie comunque ti ringraziamo e ti salutiamo la rinviteremo vi ringrazio poi ci mettiamo d'accordo nel senso vogliamo fare questa cosa con lo psicologo live sull'atletica ci sarà magari la facciamo proprio che andiamo tutti a correre viene con noi Vito ho visto i primi 20 secondi di quel video del martello ti posso dire top yin e yang allora Vito per concludere vediamo il video del martello ma tu sei attualmente bannato da Twitch Vito no 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 con quale preoccupazione gliel'ha chiesto che ho terrorizzato fine del cerbo io avrei risposto sì infatti no tu non lo vuoi vedere perché stiamo con dubici diversi ma intanto lo vediamo noi puoi seguirlo dalla live eh sì però anche se a me mi fa male rivedermi quella cosa là no me e ti lo vicino così fa yin e yang e me ti lo vicino in green screen e vicino al suo se stesso così vediamo la contrapposizione del mi avete cacato il cazzo mi avete cacato il cazzo questo lo vedete sul martello vi prendo a 1 a 1 vi vengo a trovare a casa e ve lo spacco in testa ancora l'avete capito che con me non si fotte o vi comportate bene o vi spacco la capa a voi quella troia di vostra madre che vi ha messa al mondo non siete se questo fosse uno sketch comico farebbe ridere purtroppo è la realtà però va bene grazie mille Vito grazie a voi ci mettiamo grazie a voi almeno così ciao 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 video video prema ecco ciao ciao